Con la bella stagione riparte la Dolomiti Cup di Golf, uno dei tornei più rinomati del Triveneto. Concentrazione, stile, precisione e bravura. Il prossimo 24 maggio dal campo di golf di Pieve Tesino partirà la nuova edizione del circuito Dolomiti Golf Cup, uno dei tornei più rinomati del Triveneto. Un grande evento che porterà in regione oltre 1200 golfisti. Per ogni tappa verranno premiati e invitati alla finale il primo lordo e i primi netti delle tre categorie Stable Ford. In 18 anni di vita del circuito sono state realizzate 218 tappe, 17 finali nazionali e sono stati coinvolti oltre 22.700 golfisti. Un'opportunità anche per il turismo regionale, se si pensa che il giocatore di golf, come sottolineato da Riccardo Gaifas, delegato provinciale della Federazione Italiana Golf, spende circa 4 volte di più rispetto ad un turista normale. Per questo motivo il turismo del green è un turismo da incentivare. L'unico neo sarebbero i campi da golf della provincia di Trento, che necessiterebbero, stando agli organizzatori della Dolomiti Golf Cup, di alcuni lavori di miglioria per essere competitivi rispetto a quelli dell'Alto Adige e del Lago di Garda, molto più curati e moderni. Dopo la tappa iniziale a Pieve di Tesino, la Dolomiti Golf Cup si sposterà a Lana, il 7 giugno e ancora a Monte San Pietro, Carezza, Folgaria, Passiria, Madonna di Campiglio, Alta Badia, Brunico e Castellarotto. Il gran finale è previsto il 26 settembre al Golf Club di Verona, dove si svolgerà anche una gara parallela dedicata agli special guest.